e poi ci sono i numeri importantissimi dell'agroalimentare italiano qui siamo ad Abu Dhabi dove nei giorni scorsi la regione Marche con tipicità ha portato chef e soprattutto prodotti in una delle più importanti manifestazioni che si tengono in Medio Oriente Taste, successo assicurato e richieste record per il Made in Italy del resto è proprio l'Oriente la prossima sfida globale